A chi viene da lontano? A chi viene da la campagna e ai paesi, a chi viene da lontano per il rispetto della tradizione, a chi viene da lontano, grande potente, a chi viene da lontano, a chi viene da lontano, a chi viene da parte, a chi viene da lontano, a chi viene da lontano. Pensionare le che stanno e scendendo a fare per tenere più le vielle giardini dal fuoco a casca dell'Albareng. Sicuramente non è quello che va fatto, ma alla mattina io non parevole tutti matti che si intonere a ragazzi che gireva per il strato e per le nostre vie. Chi è qui con la granè, in bicicletta il più fortuna è, dal sci alla mattina, fin dopo mesi, a rischiava di mondi a passare per lì. Stando a te, a chi soppia un inferno, a curare il rischio e a fare il dalmè. Al PIS l'era l'ape, la sfrecceva i trenta, mi dè che l'autesta l'era la più contenta. Comunque l'ha fatta finir, la pulizia dal mi-champir. Senza a fare, né cadavere né frai. A Dèche però, il fa un classio, on fa un mesdè. PIS da c'è, l'amceva brisa finir, l'agonia dal camp, da balone e trenta. L'ha fatta finir, insoposto, e l'am fatto un quel, che gli può dire in corso, forchè che è bello. Una caroche, lunga e stretta, era già un tasco che dice la palafetta, un gran negozio per 100 mila e un cliente e un parquetto che non sta un accidente. Abbiamo preferito fare dal giardino con alber, zucco e un mozzo di banca, ma spero che a lavorare non si abbri già finito, è da vargognere di quello che c'è, con chi l'ha più un segno, stile ottene, per me sta ben ben in dal monumento. E hanno lasciato più il vecchio portone, già ci fanno ragazzi, hanno servo a un marone. Forse l'hanno fatto per farci ricordare, quando al champire andavano a guardare, col povero regno che gli trasceva i biglietti e dentro a destra i gabinetti. Adesso le miei che lascia stare, perché a pinceri ha un vino da sigher. Buciarelli Lo zio, lo zio Ma che da paglò Buongiorno 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 i cacchionetti progettati sicuri da gli architetti hanno anche un canone come la grande città avevamo 50 muri e i bidoni pitturati più di 10 anni in questi posti in piazza sono più sicuri perchè mi ha detto già adesso io ho visto che è un strumento per campare ma anche il Pasqua in un anno a finire ci sapevano una volta a scrivere sui muri i caccevano dentro e erano in casa duri e l'hanno fatto i puttini con i mestri della scuola ma anche le ramei ci contavano una folla la folla dal ponde che il muri è schissato se no per queste tre i varnici non sono strani bravo papà papà è verità si è veniva da di mondo di lungo e con la Polonia agireva per mano come due ambrugge con la voglia di saltare e in un momento per aria agciapena guardare avendo una luce che agireva tanto che si è andato la fine del mondo sta tranquilla Pologna mi ha detto al Putin che l'ha venuto a campare e che l'ha stagione per provare da tirare in quattro e quattrotti più sempre pucebile in due aieri al grotto che dopo tanti anni la tornava a rire al quel più famoso dal Mishampir al stiamo a vivere in questo nuovo locale e al disco è un quel eccezionale un moce di giovani dal smacchino di pepe e venne a vivere per un colpo di vita al venere di Cire hai ne da parte tutti e ci sono putoletti che la danno a tutti questo è un quel che fa contento sia Sandrò che tutta la gente bravo Sandrò bravo papà complimenti di tutto con lui e te mi ha rifinato però avete che ci siamo tutti con l'alnes per aria a guardare in sà per scendere che quello da tu racconto dalla lettura dal mistamento sicuramente l'andrà qua con te dietro un po' manca sono sicuri però anche per instante proviamo a tenere duro chi? chi? xd darmo troppo dove? che è il bicchiere ma il dio? mettermo ma è buono Caramela 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 dal fiume eccezionale al fa fadiga a imbalzarsi in quel una domanda casa i viasevna l'impera lo è il suo collega la in la rigera in un momento i vedono il faggiano dai luigi tu lo sciopi in manca svegli la galena la tratta dal sciupte mochol dal spulvras l'olio l'alivè in mezzo alla nebbia l'animale scappè e al figo in snotch al c'è disperè per protesere i tuoi amici dai balen vaganti un quella i lasci anche in intanto perchè ti puoi vedere tra la vegetazione la maia roccia adresa andron bravo papà bravo bravo i damlas i miscarpon a calbranc al marafon che hanno tirato i miei dani per poter venire una magna l'era un pezzo che qui a Champyre hanno chavdeva una corda in tir ma per la festa della madonna di piazza gli hanno buttato la testa bassa per mettere insieme che è bella quella con la società del micro-anvel tutti conventi prima di attaccare che il fosso alzir al quel da fare ma alla fine del primo sfid io hanno che fare tutto di sic ma di boffoli i suppieven per me per al cul quelli muleven lasciano stare certi avventure per evitare brutti figure e se avli salver la faça le make avdedi alla maniazza ma se anche a tevla a un blish blish guerre i miscarpon a voi lascer grazie 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 e tutti i miei ragazzi di Manevel. Ma che la domanda di Lampaschè al Nabri Javò, una gran truè, e erano in giro con il Caradlin, per via Shalami, che è una stradlin, a un certo momento una gran pulsazione che lasciano in tutto anche qui in piazza. Ogn l'ha detto, le alcuntadini la rastronne un po' di plissi, ma in alto del Caramel la truè, tot ne è ter quel. Una boassa grande e sciolta come quelli di una volta. Chi è che è un delinquente che ha cagato un accidente? l'era stelo al nostro targine a cagare che non cagare. E mi calcio a voi lasciare che tornerà a capitare tatti lì ben ben stretto accettando che indigarete. per evitare chi farà male per gli uomini tre e motori, loro che credono restauratori, sti appassionati e moticicletti e guardano la guzzi e mi dano belle tette. Anche l'estero è andato con i tipi di antiquariati, tutti in fila ai chantalora, ad riveri in Deven Laura. E hanno fatto le fessi e mi pellegrino in dal locale ad pasticen. Anche il barista gli fa un stercetto e con un caffè gli pegano la fetta. E in parte da una canteina, gli invia mai una mattina. Entriano, che sono che stanno a fare un sito grande e hanno voto a fare. E senza tanta discussione e senza fare un capannone. In due polen lavorare, il suo trapel fare e fare. a fare un'altra cante. E in parte da un'altra cante. E in parte da un'altra cante. E in parte di un'altra cante. E in parte del tutto, anche dell'altra cante. E in parte della cante ma dal maniere a un po' le faire chance chomèder l'asbeta a tenire il frenè con un regime bianco e macarons con sé ma quando l'effor brige contente l'Allemagna che m'è un ver c'est accident tutti a scusa gli imboni per stare a gassel che in stanza l'ha fatto quel per il micro-anvel a tesla autostrae per l'occasione l'ha mescuit bacco in dal socapanone anche al fuhrer che l'ha rete al maniere al nostro amico l'ha riuscì a impressionare sucessa pan e venghi in camufa anche la sombrosa le bella stoffa e tu porter este gran bagnador che l'ha ne pobrige un gran chavador per la vita del tuo stomaco che l'ha tenta ingrociare al mi panseg a io decigi ad lasciare da criver la panza in certe occasion fidete di me che a chan restandrò al fasoletto a voi lasciare a car ragazzi che in stanno al mare la truè l'anima gemella e ci ascoltè questa le bella parla strè che si va a baller l'ho la soca l'attaqué giustare clava in mente ad marideres sicuramente a iedas teres un passo a che grande e importante è a pensare e in bella intanto come prova generell a Parigi e a vlander compra i biglietti prepara il valese lì le conventa e lì le decisi ma al momento di andare sull'avion allì ha gigno un gran magone Antonio aiuto a megnuna gran pora e intanto agli hostes igne vien fora far mei mutur blocchè la zent se nostri qui ha gvinna sident par più d'un'ora iam blocchè l'aeroport stai bene qui e andai a fare l'aeroport allora mei che ho un previdente voglio lasciare quello in d'alstamento se quando vedi l'aeroporto vieni da Siger al mio fasoletto ti pucchiamo per truare bravo Alessandrone bravo Alessandrone bravo Alessandrone manda da bella a Sampir hai una bionda bella grande e rubiconda lì la vende sigarette a Siger lì la vende lì la vende lì la vende lì la vende che vede inter a comprare quel a passa sobet tot i mel nonostante lì la vende 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 avvengare lì la vende quindi adesso chiamati ragazzi anche voi che lì hai avuto a casa ma l'ho detto hai fatto l'appel speriamo che possa cambiare quello lì mi bretta adesso te lasse in modo che puoi andare a spaz con la scoffia adresandrò a cercare unucarrò no 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 sei qua oi ci ha sparato la schiuma la barba vieni vuoi lì la messe dente ti beva anche il petroli stasci lì ti lasse al mio arloi da festa a car ragazzi che ha perso la testa par par la clamoranza elta eslancé che col sottet all'incantè lì all'ecmanda me un generale anche la nebriza al titolare ad calo in las cantonei e fronte ai cavall che fong varnigè all'unedè cal prepu xeris setor prima a toque de l'ivere per la passione che ha lì dell'architetura alla porta in Schrambele senza premura per visitare cinze monumenti castelli piazza e tutti che è trascidente anche lì la bella passione e la cultiva proprio da bo fin in Hollanda lì deve der la cursa mo caro mio bello la borsa chi tridè che te fatti feri quanti gnocchi te sbagli l'ureri la punizion le stè d'esemplare quattro castigli te tu chied visitare adesso in biciaca te mi arloi sci puntual e tira fuori l'argoi ciao alberto qui qui ci c'è ragazzini che anche in stanza e in andavì attraverso ma poco fa a passer l'ultimo dell'anno. Arrivè a destinazione in stetera ad gran passione e anche anche in allegri e anche in baiuc che ha servito. Di problemi hanno nera briga perché non avevano una valigia, bancomat, carted credit, piste da cento e non c'è un debit, ma non c'era un po' sfigata la questione si cambia perché i ragazzi sempre in Baldoria oltre ai soldi hanno perso la gloria. e aveva messo in tic calcetti, briga scarcer, besti panetti e anche l'altro che il biondino l'aveva perso al cattuè. Qui bisogna racionare, se non aca, come fanno andare per riuscire a a tornare qui e a mangiare una volta al dè. Mai conto e in stè fatmele e agavanzare il pedaggio autostradale. Che arriva dopo qualsiasi dè accade il piofuro fra stor qui. La micurezza a voi lasciare, a che c'è la testa, a Psylliger e a si sicura che l'ha perdita quando si brucia in compagnia. grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 da quando la canova l'ha tutta la man al sta in cat purzel a rubi sang ma una gira che la vuoi in abbondanza l'endeca e la sbagliata troendo la suocera in posa della moglie ma l'ho imperterrito al vleva monter e l'iclana vest ad toti color aggadet di schozo vnot al vrei più dur alla ora mai che voi aiuter a tlashi barnard parvedrin dunder ciao pippo grazie grazie i tam las al mi bregno vietzèk a carragasch ultimamente al facci lec l'olio era sempre in compagnia e mai una volta al setirendri le sempre stai un ragazzo da batalla mo me dè che adesso al fa anche la maia al baladur l'umpareva il padrone che sova me al n'amai perso in occasione spesso al manieva più spesso al beva e quando l'era che c'è sempre al canteva io sempre in mente che al venerdì al bar dell'Issio a Cirna Lue a un certo momento l'è scappata corsa e siamo stati attenti altra via anche la borsa al fettieri Geschen l'aveva spianè ma in due due quater alla tot arvinè adesso al lavoro stracane bigate mo quando al vacà alleva anche piatta a San Vincenzo adesso al sta mo al nebrija lo padrone che pover panurcio che ti ha ridotto male adesso anche in cizia ti andrei a cantare se al break ti trovi brisa e ti vuoi unire fuori mettete al mio senza aver fuori ciao Paolo a megnò l'ureccia dal mio amico Brighella che l'ampaschè a nessun sesso una bella a delà dal stancho incalcit rinomè per la musica al folle e al bellicere e hanno fatto una festa un po' particolare che per chiuscire al don bisognava tastare e parevano tutti dibi parpaio ma mi dico che più donna l'aveva i marron e che al pochi don che aveva bisogno di girare i cerchèvano fuorci da fare splucher in tutti i bar dal non mi sentire i ragazzi che non voleva imbrija dire ma ora c'è una vaga maniera e dopo mezz'ora e se intorno a trovare dentro a queste città peggio e stanell ma contro la luce a chavdeva lugella di moca amatari che le un quel da fare tal che che più don al c'è fatto in trappler queste travolte urganese un quel più non strano con dal don raffinedi e su quanti alla man e a wetter ragazze par c'è rovarduper l'amica parella a voi propri lasciare il tam las al chef la canteina a club o o o o o o ricomincio i tam las Alla prossima. 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 la misura e il disegno del campo, ci ha portato il venere, la ciappella va, in feina riccione, in queste balladure, che girano in coscia, forchè gli occhi duri, ma che la volta purtroppo e me lo imparano, un periodo mudante, sicuramente anche a me, ci ha tornato a succedere, brisa a perdere l'occasione, e c'è che in la borsa, te quelli c'entrò. E la geometra! E la geometra! E la provoca, su quanti incidenti, tra i nostri strani. Se ha passato dalla curva di Brandan, ragazzi, stai attenti, che l'ha toglie la mano, stai qui crescendo per la sua interessa, e poi garantire che l'ha una bella murassa. l'ha una vestaglia, negra e lugente, che contro la luce, l'ha trasparente, e mi hanno detto, chi passa da lì, che sotto quella l'ha niente convistata. non da niente, con il tetto mesi fuori, mi dico l'aspetta, quel don c'è in sapore. Anche i mudanti, agarrippi sono lasciare, ma dopo la gente, la chmiteva di pasare. Allora l'arblanc, ha meglio in mente, che è il peso più pregente, dal mistamento. Mi spero che lasciava, come Droueren, la mia lampada, bisogna spargherla. Allora ti vedrai, che vieni scontenta, e quando ti interessa, ti piace ridenta. Io so, io sargo, sono arrivano, e allora vi, a chi va lasciare. A tutti qui, tra i champiringi, che non è neanche in piedi cammini. e i ampori da maleris, solo a scorer e marideris. Andai ben, devi da fer, solo a veder, vlippi inser. Devi ben amossa, fenni riman, chi con veder può esser contento. La vostra porra è l'adessere c'ave, acceda l'innessi, lasciate per te. Puoi pensare a un bel pipè e altruè lasciare in dal vostro litè. Escetevi nel c'aveo, che l'ha fatto il corno, brisa tutta, brisa a fare una questione. Tanto il c'aveo, ha un'avanza brisa scritta e ha bisogno per dire, ma chi l'ha mai detto? Comunque adesso, ce l'ha lasciato dire? Avdego un proverbo di vice-champir. Dona magra, pigra e occa, se ti incat, porta una capoca. Intento per pensare a queste queste questioni, ha lasciato un spiro e trascendrò. Tutto quel che aveva av l'ho lasciato, e in quella donna si curla brugè. Mi spero che avessi di diverti, accedi a trascendrò, a tornare in qui. Adesso però, prima d'ander, a repiagare e ringraziare. La mia famiglia, tutti i ragazzi, che in stampio don, n'ha fatto un cas. La mia famiglia, la mia famiglia, è trascendrò. La mia famiglia, la mia famiglia, è trascendrò. La mia famiglia, la mia famiglia, è trascendrò. A chi prepotente, adrubissante, che un brut argomento, è in tutta la manga. Con chi vampir da masser coi paletti, ma quando io vesti, a un chan toquei panetti. Ha chan bandetti, con l'elefante in prempianco, e ha vedeva che tutti, che stivano in lunga. E tutti i palazzi, lasciò in spingolone, però tutti hanno riuscito a fare di dubbio. A ragazzi duratori, sempre più numerosi, con i vostri argomenti, anche più misteriosi. vuoi mettere la praia al campaner, quanto devi toccare ad lavorare, ad artiglio, con la sua invenzione, che l'ha fatto con un maggiolo, un gran maquinone. E la contessa, che l'era posso muire, toccampir l'ha fatto maravigliere. Al centro Alice, con i supputeni, che hanno visto tutti da pinguin. E con l'iglu, in vetta l'altura, mi vado con un ragazzo, che è una corsa di cladura. Acquitla rapida, con chi bistion, che parevano tutti di maggiol. In tal polera di Malagò, i erneri dupè, però vivi vesti, come senti con il cervello. Hai basurlone, col soccorratlè, e hanno portato a spaz, tutti che bistin. L'os, l'occa e l'allèo, con robinù, calma e calzò. Hai mangi e bevi, che l'han passato a Scurdi, in stando al volt, i van ringraziere. E se l'Ether, a continui a cucer, sempre più osente, a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire. Hai spargouillè, che hanno portato al micranvel, con al computer a un'Ether livello. Hai scurgigli, le un pesca al lavoro, però la Polonia l'hai conto dal fuoco. Ha il caro al bacco, col bal che ha un ciappè, in dal capannone l'hai meser dupè. E quando arriva, che l'ho lato palassino, l'era sempre pensata, sucessi e organiche. Hai mescini che hanno tanto lavorato, e l'universo, il sang portato. Che hanno calmesse, e vogliono partire, per stare fino a queste tranne, lontano da Scurdi. Hai biancenotti, sti ma tarlon, che s'hanno fatto vedere di bicolò, che ci fossero, per davanti, un srebri giacin al mio ar blu. Al pagino di champir, che dentro al tendone, gli avevano diventato più di un succo. Non, basta c'era, alla fine della scurdi, neanche un bicchiere, e n'è avanza. Hai biancenotti, che hanno portato in piazza, stili malassi e stai gran faça, che più che ridere, la fa porra, ma che ci vanno a tornare fuori. Ma che ridere, che è un paese fatto accente, e il suo mare, il signor tutto lento. E l'ora è un mese, sovra il car per la sfile, ma mi dico che in culo, più dono scappè. A Poggioli, per i suoi sacchè, che è buon per me, in un maesterno. E per il preso, che ha vinto un istante, non vuoi prenotare per qui c'è tra. E per i suoi carabinieri, e per i suoi carabinieri, che ci hanno avuto e ci hanno dato la mano, a creare più confusione durante il Cranvelle a Dreschandron. A tutti qui, che hanno struttato quello, per fare più bello il mio Cranvelle, al maschera più, a qui della maniassa, a tutti qui cagheri in cui in piazza. Un grazie al Pritt, che ha il cagherla banziano, che più dono sicuro non aveva bisogno. Ha il cagherla oratore, da fresa di New King, da vedervi a gommi con un bicchire di vento. A Vicenze Vitelli, ha un cambri a scordare, per tutto quello che ha fatto e quello che ha il cagher. Proprio un bel cuore, una meraviglia, per il re Chandron e la sua famiglia. Ha il vuoi dire fuori, in mezzo all'azienda, che quello che ha fatto, ha mantenuto in mezzo. Adesso ragazzi, ho finito per davanti, e quando hai pensi, ho finito il Mago. che bide che ho passato, qui con vettere tra le nostre strade. Avete al Mestre, le imposizioni, per attaccare l'ultima sulle Chandron, a sondare loro le proprie la fente. Andro Brugin, come mi destino. a un Vavì Parfum, la voglia dredere, ha meglio una gran paura, ogni po' credere, che Polonia, Brisa Siger, perché queste tranne, sono qui a cantare, quando in piazza, a scintradire, viva Chandron, e viva Chaffin! l'U. e viva Chandron! l'U. e viva Chandron! viva Chandron! Salva a tutti Ora l'igra l'hostarì, cañi vol malicù. La 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 la... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.